Cagliari ti amo! No basta con questa storia! No basta con questa storia! Basta! No, è Cagliari ti amo, è il festival di lucido sottile delle periferie, ci vediamo a Cagliari. Il 5 di ottobre? Ma non era il 30? No! È il 5 di ottobre, ci vediamo in periferia, dove? Chi lo sa? Ancora non si sa, ma lo sapremo prestissimo, state connessi e aggiornatevi sul nostro sito cagliaritiamo.it che vi ricordiamo è la prima persona plurale del verbo cagliaritare. Io cagliarito, tu cagliariti, egli è la cagliarita. Noi cagliaritiamo!